Si partirà alle ore 9 da Caltanissetta per arrivare poi alla miniera di Zolfo tra via Talarita. Comincia così il programma dell'escursione Via dei Minatori Museo della Miniera tra via Talarita, l'appuntamento di sabato 8 ottobre, uno degli eventi, il terzo per l'esattezza del progetto itinerari di legalità dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Uepe di Caltanissette ed Enna, in collaborazione con l'Associazione Culturale di Promozione Turistica in Nersisili. L'escursione che si svolgerà nel territorio provinciale di Caltanissetta tra Sommatini e Riesi viene organizzata inoltre con il patrocinio e la collaborazione del Parc archeologico di Gela. Itinerari di legalità ha come obiettivo quello di ricreare legami e favorire la vita comunitaria attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione sulla legalità, si legge nel comunicato, per gli utenti in carico con eventi, visite guidate ed escursioni nei territori dell'Ennese e del Nisseno. L'escursione è dunque aperta a tutti, previa prenotazione però, infatti potrà accogliere fino ad un massimo di 25 persone, si prevede una durata di circa 4-5 ore, con la possibilità di visitare il Museo della Miniera, dove è presente la centrale elettrica, attrezzature e documentazioni fotografiche storiche del lavoro in miniera. E poi, grazie anche alla guida ambientale ed escursionistica Irene Bonanno, nonché presidente dell'Associazione Inersisili, si potrà ammirare e scoprire il paesaggio. Lungo i due chilometri circa di sentiero, fino alla Petra Perciate e alle sponde del fiume Mera Meridionale, per poi tornare indietro ripercorrendo lo stesso sentiero.